Destinazione Abruzzo, questo è il tema della tavola rotonda di questa mattina in Camera di Commercio di Pescara, di cosa si tratta? Si tratta di un evento che ha la finalità di mettere a confronto dei tour operator, degli operatori nazionali con gli operatori del territorio. L'obiettivo è quello di intercettare l'esigenza degli operatori della nostra regione, di capire, di conoscere qual è la posizione dell'Abruzzo in campo turistico rispetto al contesto nazionale e quali possono essere le azioni necessarie per migliorare la nostra offerta turistica. Quali sono le prospettive? Bisogna impegnarsi tutti, io credo fortemente in un'attività di rete, quindi networking, il sistema deve essere composto da tutti gli attori, da tutti i protagonisti, sia il pubblico che il privato, ognuno deve fare la sua parte, quindi da un lato una promozione più forte, più incisiva, dall'altro anche costruire un'offerta integrata con i servizi, quindi non solo ricettività alberghiera, ma servizi sul territorio per rendere l'esperienza del turista positiva e quindi far ripetere questa esperienza.